Salve a tutti, siamo qua io e l'amico consigliere comunale Raffaele Delle Curti, siamo venuti al cimitero stamattina per verificare alcune cose, alcune segnalazioni che ci avevano fatto i cittadini di Marcianese. Allora noi adesso siamo nell'area nuova del cimitero, le faccio vedere, ecco qua, questo che vedete è il parcheggio nuovo, il parcheggio dell'altro lato del cimitero rispetto all'ingresso principale, come vedete sostanzialmente il parcheggio è finito, c'è anche la segnaletica orizzontale, quindi sostanzialmente basta togliere quei blocchi di cemento all'ingresso e i cittadini possono entrare dentro al cimitero senza fare tutto il viale principale per arrivare fino a qua. Stiamo parlando ovviamente Raffaele di cittadini, soprattutto anziani, che arrivano qua al cimitero e che però devono fare tutta la strada, è vero che c'è anche il mezzo per portare le persone, però non sempre è disponibile, non tutti vogliono usufruirle, probabilmente avrendo quest'area, vista che è pronta, questo parcheggio, si potrebbe cominciare a far funzionare meglio questo cimitero. Assolutamente, anche perché come giustamente ti è stato segnalato da diversi cittadini, c'è quest'area che è completamente nuova ma fondamentalmente funzionale perché le salme sono già arrivate, ci sono tante famiglie che la frequentano ed è giusto che abbiano un accesso agevole a una struttura così importante. Sappiamo tra l'altro che questi luoghi sono frequentati da persone che hanno una certa età, alcune volte anche delle disabilità e non a caso nel parcheggio ci sono diversi posti auto per disabili. Ricordiamo che questo parcheggio oramai ha una degenza infinita perché parte con l'amministrazione fecondo va avanti con l'amministrazione di Tartaglione, con l'amministrazione de Angelis dove sono stati fatti tutti i passi conseguenziali, è arrivata questa amministrazione e non si capisce perché si siano bloccate tutta la documentazione, tutti gli atti prodromici che servivano per far aprire questo famoso parcheggio. Ricordiamo anche l'altra questione dei bagni. Sì, infatti se ci avviciniamo facciamo vedere che tutta quest'area qua, tutta questa parte sono due piani pieni insomma di tombe, di defunti eccetera eccetera, però non c'è un bagno a servizio. Siamo andati a vedere dove c'era il bagno e abbiamo visto che è chiuso e questo è un'altra grandissima difficoltà che provano gli utenti, soprattutto i cittadini anziani. Allora, anche in questa in quest'area del cimitero c'è un ascensore guasto e l'altro non è funzionante. Prova un po'. Niente, chiuso, non funzionante e quindi anche qui Raffaele stiamo constatando altri disagi. Sì, l'accesso è proibitivo perché se ho un problema una carrozzina come faccio a salire? Se ho un problema anche di deambulazione semplice come faccio a salire al secondo piano? Anche qui stiamo constatando ovviamente molta sporcizia ovunque, diciamo veramente un degrado incredibile, quindi anche qui un pavimento sporchissimo. Ora non dico che deve essere come un ospedale, però, insomma... Ovviamente spazzatura e purtroppo dobbiamo constatare che tutte le segnalazioni che ci avevano fatte erano giuste, non vi dico purtroppo anche la puzza che c'è in quest'area del cimitero. E' quasi irrespirabile. Raffaele prova a vedere se funziona. No, spottiamo. Non sono un esperto ma credo che non funzioni. Anche qui a terra cicchie di sigarette, resti di fiori. Qua a terra troviamo, voglio dire, una situazione diciamo di questo tipo di degrado. E questo anche purtroppo è il cimitero di Marcianese. Allora, Raffaele, siamo scesi giù, qua continua cose strane, vediamo cose strane, questa lastra di marmo qua appoggiata a terra, secondo me pericolosa. Il battiscopo sconnessi con altri rifiuti, a terra c'è una pila, qua vedete, ve la inquadro meglio, insomma. Una situazione drammatica, poi ricordo la battaglia che fu fatta contro i cittadini che lasciavano magari un ricordo, un peluche, dei fiori particolari, che ho fatto una battaglia contro quelle persone quando in realtà i problemi sono ben altro, no? Esatto. Poi si pensa che sono stati chiusi? Sì, 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 stanno chiusi. Non ci stanno in bagno qua. Bisogna andare dall'inizio all'ingresso? Eh. Che comunque non è vicinissimo. Eh, 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 ecco mi fa. Io penso che si può aprire. No, quello è tutto fatto. Perché? Cioè, sto congelo. Naturalmente sta chiuso, no? Sì. E quando è stato l'attacco? Eh, no. Perché uno potesse stare là? No, no, ma infatti... No, no, ma infatti... Tanti si acca, forse sto vicino. Non so, si mette l'idea. Perché io quando ero... Cioè, sta chiusa, ho quando ero sacca. Però se vi acca, con uno potesse fucire. Noi comunque, voglio dire ai cittadini che noi siamo stati sollecitati, siamo venuti, verremo anche altre volte per ricostruire anche altre cose. Arrivederci a tutti.